Onorevole Fico, il Movimento 5 Stelle è la più grande forza di opposizione del Paese. Ha rivendicato, come vuole la presidenza delle commissioni bicamerali di garanzia e ottenuta quella di vigilanza su Arai, di cui lei è stata eletta Presidente. Quali sono le linee guida in base alle quali lei condurrà il suo mandato? La linea guida fondamentale è senza dubbio quella della trasparenza, perché abbiamo visto anche con l'esperienza del Movimento 5 Stelle in questi anni che dove entrano le trasparenze, quindi dove si accendono i riflettori, fare delle cose che non sono proprio a norma di legge diventa molto più difficile e ognuno ha delle responsabilità ed è inchiodato a responsabilità maggiori. Infatti la prima cosa che in questa commissione si è fatta dalla prima riunione della commissione bicamerale è dare la massima trasparenza e pubblicità ai lavori tramite ogni mezzo, tramite la diretta streaming, tramite il canale satellitare della Camera dei Deputati, tramite la diretta circuito chiuso per i giornalisti all'interno del palazzo dove si tiene la commissione bicamerale e quindi questa trasparenza massima e anche con l'utilizzo dei social network dove linkiamo e puntiamo la diretta streaming della Camera dei Deputati e quindi della commissione bicamerale vediamo che ha molti accessi e le persone, quindi magari gli utenti che pagano il canone possono controllare le nostre avvizioni. Come primo atto lei ha rinunciato alla indennità di carica da Presidente. Sì, mi sembrava doveroso, è la seconda indennità di funzione, avevamo già detto che avremmo rinunciato a queste doppie indennità in campagna elettorale, quindi io in un momento in cui il Paese soffre mi è sembrato veramente il minimo sindacale rinunciare a 26 mila euro all'anno e se la legislatura dura 5 anni la Camera ha risparmiato e quindi i cittadini 133 mila euro in 5 anni. Qual è la sua idea di servizio pubblico Presidente? Il servizio pubblico deve garantire i cittadini, deve garantire le persone che abitano questo Paese e le persone che pagano il canone, non devono garantire i partiti politici. Quindi bisogna avere un'azienda che crea veramente cultura, dove il pluralismo dell'informazione sia rispettato, ma non dal punto di vista partitico, dal punto di vista di varie opinioni e occhi su una notizia dove siano i contenuti ad uscire fuori e che quindi le persone abbiano più conoscenze a più informazione e più libertà nelle loro scelte della vita quotidiana. Una televisione pubblica senza le mani dei partiti, Presidente Fico, è un vecchio adagio? Sì. Questa volta però il progetto corrisponde al manifesto programmatico dei vertici aziendali. Lei pensa che sia la volta buona? Io spero che sia la volta buona. Da questo punto di vista la presidenza di questa commissione, quindi il Movimento 5 Stelle, è un movimento nuovo che non deve niente a nessuno. È arrivato qui in modo libero e svincolato da ogni tipo di compromesso e quindi può portare davvero avanti questo progetto. Perché noi sappiamo che se ci sono stati anche altri presidenti di commissioni bicamerali comunque venivano da quei partiti e quindi in qualche modo erano sotto scacco di questo sistema. Noi siamo totalmente liberi e quindi possiamo agire. E se la nuova dirigenza vorrà fare questo, la vigilanza senza dubbio gli sarà vicino. Lei è contrario alla privatizzazione dell'azienda di servizio pubblico? No, non sono contrario, però in questo momento non possiamo procedere con una privatizzazione perché se non facciamo due leggi fondamentali che sono quelle sul conflitto di interessi e quelle sull'antitrust in modo serio, strutturato e consapevole, non possiamo procedere a una privatizzazione, se no faremmo peggio che meglio. Lei ha parlato del canone, quanto è importante secondo lei il contrasto all'evasione del canone? No, è importante assolutamente. Noi sappiamo che l'evasione in questo momento è al 27%, però dobbiamo far sì che venga pagato da tutti e che il pagamento del canone corrisponda davvero a un servizio pubblico fatto in nome e per la gente. Senta Presidente, la linea editoriale e l'impegno dei vertici aziendali è quello di incrementare la qualità culturale dell'offerta e dei suoi contenuti con un'attenzione particolare al ruolo e all'immagine della donna. È stata cancellata dai parincesti Miss Italia. La Presidente della Camera Boldrini apprezza. Lei come la pensa? Non voglio entrare in questa scelta editoriale della RAE. Vedremo se poi sarà qualcosa di positivo o qualcosa di negativo. Non ho interesse nell'esprimermi in questo momento sulla qualità di un programma come Miss Italia o meno. Secondo me va rivista in senso generale tutta la programmazione dove devono esserci contenuti, dove deve esserci qualità. Nel contratto di servizio che ho qui con me, che è questo libro rosso, nei vari articoli si dice che la RAE deve essere la principale azienda, agenzia culturale del paese. Quindi dobbiamo essere produttori di cultura in vari aspetti, dall'informazione all'intrattenimento. Perché se produciamo cultura abituiamo il paese al meglio e quindi se il paese è abituato al meglio a uno standard alto non accetterà uno standard di qualità basso mai più. Lei è favorevole a un dibattito allargato sul rinnovo del contratto di servizio e della concessione? Sì, sono favorevole a un dibattito allargato, partecipato. Quali soggetti devono partecipare? Secondo me devono partecipare anche i cittadini, gli operatori del settore, parteciperà questa vigilanza quando dovrà dare il parere autorevole sul contratto di servizi, il ministero lo dovrà scrivere con la RAE, ma secondo me anche con i dipendenti RAE e soprattutto con le persone che pagano il canone, che quindi devono poter sapere che cosa fa stabilire il ministero con la RAE e tramite questa vigilanza e tramite il Parlamento possono scrivere un contratto di servizi che sia all'avanguardia e al passo coi tempi. Ci sono dei punti, per esempio, nel contratto di servizi che questa vigilanza sta analizzando, cioè per esempio il punto in cui si dice che gli stipendi lordi di tutti quanti i dipendenti RAE devono essere pubblicati sul sito, ma al coma successivo si dice che questo lo dovrà stabilire in una commissione paritetica e quindi io ho chiesto che vengano pubblicati questi stipendi, ma gli stipendi devono essere pubblicati, ma non si è riunita più questa commissione paritetica, da un anno non si riunisce, ho scoperto che non si riesce dal 2012 e ho chiesto conto che si unisca il più presto possibile per dare il via alla trasparenza. Intanto uno dei risultati storici di questa vigilanza è il fatto che abbiamo finalmente avuto i stipendi a fasce dei dirigenti RAE, che è uno dei settori che non erano mai stati pubblicati. Per la prima volta nella storia della vigilanza li abbiamo e sono facilmente scaricabili dal sito della vigilanza RAE nella Camera dei Deputati e nei resoconti stenografici.